Camera di commercio di Catanzaro, Consiglio regionale della Calabria, provincia di Catanzaro e comune di Catanzaro presentano Expo FATA, fare agricoltura, turismo, ambiente. Promosso dalla Fondazione Eugenio Mancuso, il progetto Expo FATA vuole rilanciare le attività e le risorse turistiche e agricolo ambientali della Calabria Centrale e della Sila Catanzarese, anche attraverso eventi fieristici settoriali a carattere regionale e nazionale, aggregando il sistema imprenditoriale e agricolo. Expo FATA, una due giorni di esposizioni, convegni, approfondimenti e degustazioni nella sede del Centro Agroalimentare Comalca di Catanzaro il 5 e il 6 ottobre. Expo FATA, soluzioni e occasioni per il futuro. Saranno presenti le telecamere di RTC, la radiotelevisione della Calabria.